Amici Rosa Nero, in questo campionato Gnaurè ha segnato due reti, Yaelo una. Secondo voi chi farà più gol in questa stagione? Scopriamolo insieme. Secondo me Gnaurè, perché comunque si vede che ha delle abilità particolari. È bravo. Secondo me è Yaelo. Perché? Perché un bel tiro può sfruttare le conclusioni da fuori. Penso che segnerà di più Gnaurè, perché lo vedo molto in forma. Tutti e due. Perché? Sono molto bravi a giocare, se la cavano. Io sono convinto che Gnaurè segna di più, perché è un grande giocatore, molto veloce e mi piace molto. Io credo Gnaurè, più un giocatore portato verso l'attacco. Gnaurè invece è un regista con i piedi da mezz'ala, però credo che farà più gol Gnaurè. Secondo me è Gnaurè. Perché? Perché ha già fatto più gol. Iaialo. Perché? Perché è un giocatore molto forte e se ne merita. Secondo me è Gnaurè, perché comunque è un giocatore forte e fa la differenza in campo. Secondo me è Gnaurè, perché è un giocatore forte e fa la differenza in campo.